Buongiorno a tutti, Gesù e Maria, state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime. Quanto state per ascoltare? Io vi benedico e la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici, bentornati o benvenuti ad una nuova puntata del Catechismo Romano del Concilio di Trento. Siamo giunti alla 33esima puntata, un numero significativo perché 33 sono gli anni di nostro Signore e alla 33esima puntata, per una gradevole dioincidenza, comincia la vincente lunga, dettagliata e assai edificante trattazione del Catechismo Romano sul sacramento dell'Eucaristia. è evidente che questo sacramento viene trattato in maniera oltremodo approfondita, pensate che va dal numero 207 al numero 237, per un totale insomma di pagine che non le ho contate, ho la versione digitale ma sono tante, perché il contesto in cui evidentemente è stato pubblicato questo Catechismo è la piena polemica antiprotestante, quindi la devastazione che fu operata dalle dottrine luterane e non solo, su questo gustissimo sacramento. ottrine che purtroppo non si sono mai sopite nel corso del tempo e hanno tentato e stanno ancora tentando di fare capolino, certamente non per vie dirette e formali ma per vie trasversali e surrettizie, purtroppo, dentro la stessa Chiesa Cattolica che era sempre combattute. Chi ha qualche annetto o chi ha studiato un po' sa bene che già quando fu approvato il Novo Sordomisse, illustri autori parlarono di protestantizzazione, non solo della Messa ma anche della Dottrina Cattolica sull'Eucharistia. E certe prassi, come dire, hanno contribuito a questo, ripeto, non tanto sul piano teorico, perché nella Chiesa Cattolica la Dottrina sull'Eucharistia è integra da un punto di vista formale e magisteriale, nessuno l'ha cambiata, nessuno lo può cambiare. Il problema è che c'è un altro modo per intaccarla, quindi non toccare evidentemente perché era possibile il dogma, ma attraverso una serie di elementi che lo circondano o che in qualche modo lo devono trasmetterne, è inclinare un po' alcune cose. Su questo certamente è un campo in cui si può ampiamente discutere perché, mi avviso, questo fenomeno è un problema reale ed è un problema da cui bisogna cercare in qualche modo di potersi difendere, onde uno smardire poi la bussola. Comunque, fatte queste brevi premesse, iniziamo subito la trattazione. Il sacramento dell'Eucharistia. Anzitutto, dignità dell'Eucharistia desunta dall'istituzione. Numero 207. Fra tutti i sacri misteri che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha elargito, quali infallibili strumenti della grazia, non ce n'è uno che possa paragonarsi al Santissimo Massacramento dell'Eucharistia. Ma appunto perciò non v'è colpa per cui i fedeli abbiano più a temere di essere puniti da Dio che il trattare senza sacro rispetto un mistero così pieno di ogni santità, un mistero anzi che contiene lo stesso autore e fonte della santità. Cioè, questa è una overture, veramente, da standing ovation per quanto mi riguarda. Proprio ribadisco, rileggo, tra tutti i sacri misteri che il Signore ci ha elargito, quali infallibili strumenti di grazia, non ce n'è uno che possa paragonarsi al Santissimo Sacramento dell'Eucharistia. Qui dobbiamo tutti fermarci. Ma proprio per questo, proprio perché qui siamo dinanzi al top, a non plus ultra, non c'è colpa per cui i fedeli abbiano più a temere di essere puniti da Dio che il trattare senza sacro rispetto. Un mistero così pieno di santità. Trattare senza sacro rispetto. non vi è colpa per cui i fedeli abbiano più a temere di essere puniti da Dio. Guai, guai a chi si azzarda a trattare senza sacro rispetto un mistero così pieno di ogni santità. Io sto citando, sto leggendo, queste non sono parole mie, sono parole scritte da gente che è molto più grande di me, dagli autori del Catechismo del Concilio di Trento, pomulgato da San Pio V, che per quanto sia stato scritto cinque secoli fa, è un catechismo della Chiesa Cattolica, scritto da Santi, canonizzati. Siamo all'epoca di San Roberto di Bellarmino, di San Carlo Borromeo, di Sant'Ignazio di Loiola e eccetera. Quindi, detto questo, ognuno faccia le sue debite e considerazioni riguardo alla responsabilità che si prende nel trattare in un certo modo l'Eucharistia. Sacro rispetto, sacro rispetto in tutte le sue dimensioni. L'Eucharistia presenza, quindi la presenza di Gesù nel tabernacolo, l'Eucharistia esposta, ancora peggio, nel senso che chiede ancora più rispetto, la celebrazione della Santa Missa, come vi si assiste, e la Santa Comunione, le disposizioni interiori ed esteriori con cui ci si accosta ad essi. Io, da sacerdote, facendo eco a queste parole, raccomando, raccomando su questa materia di essere molto attenti. L'Apostolo, riprendo la lettura, lo ha sapientemente capito e ci ha chiaramente ammonito intorno a questo punto quando, dopo aver mostrato l'enorme delitto di quelli che non distinguono il corpo del Signore, siamo nella prima lettera ai Corinzi, soggiunge, per questo molti tra voi sono infermi e senza forze e molti dormono. Pertanto, affinché i fedeli possano ritrarre maggior frutto e fuggire la giusta ira di Dio, dopo aver ben compreso quali onori divini si debbano tributare a questo sacramento, i parroci dovranno con somma di vigenza esporre tutto quanto può meglio illustrare la maestà dell'Eucaristia. Dopo aver compreso quali onori divini si debbano tributare a questo sacramento e affinché i fedeli possano non solo trarre maggior frutto, ma fuggire la giusta ira di Dio. Cioè, chi maltratta l'Eucaristia, sta dicendo, si sta esponendo all'ira di Dio. Questo significa in italiano quello che ho letto. ho letto, non ho detto, ho letto. C'è una L al posto di una D, c'è una L. A questo scopo, seguendo l'esempio di San Paolo, che dichiarò di aver trasmesso ai Corinzi quel che aveva appreso dal Signore, i parroci spiegheranno anzitutto l'istituzione di questo sacramento, che secondo la bella testimonianza dell'Eucaristia avvenne come sello. Avendo il Signore amato i suoi, li amò fino alla fine e per dare un pegno mirabilmente divino di questo amore, sapendo giunto allora di passare da questo mondo al Padre, per non allontanarsi mai dai suoi, compì con ineffabile consiglio un mistero che supera ogni ordine e limite di natura. celebrata con i discepoli. La cena dell'agnello pasquale, affinché la figura cedesse il luogo alla verità e l'ombra al corpo, prese il pane e dopo aver reso grazie a Dio lo benedisse, lo spezzò e lo distribuì ai discepoli dicendo prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà emolato per voi, fate questo in memoria di me. E così prese il calice, dopo cenato, dicendo questo calice è il nuovo patto nel sangue mio, fate questo ogni volta che lo berrete in memoria di me. compì con ineffabile consiglio un mistero che supera ogni ordine e limite di natura. io tutte le volte che parlo dell'eucaristia, delle persone del corpus tomio, non esiste cosa più grande che Dio abbia fatto. L'eucaristia le supera tutte. Le supera tutte. Vari nomi dell'eucaristia, paragrafo 208 Nome Gli scrittori ecclesiastici, sapendo di non poter riuscire ad esprimere con una sola parola la dignità e l'eccellenza di questo mirabile sacramento, hanno tentato di esprimerla con vari nomi. L'hanno chiamata talore eucaristia, che si può tradurre grazia eccellente o azione di grazie. E' veramente una grazia eccellente, in quanto prefigura la vita eterna di cui sta scritto grazia di Dio è la vita eterna, e in quanto contiene in sé Gesù Cristo, vera grazia è fonte di tutti i carismi, con le quali verità si chiama azione di grazie, perché immolando questa purissima ostia rendiamo ogni giorno infinite grazie a Dio per tutti i suoi benefici, anzitutto per l'ottimo beneficio della sua grazia che ci ragisce in questo sacramento. Il nome stesso conviene benissimo anche alle azioni che Cristo ha compiuto istituendo questo sacramento. Quando prese il pane lo spezzò e rese grazie. Anche Davide, contemplando la grandezza di questo mistero, prima di prorompere nel verso, ha reso memorabili le sue meraviglie al Signore ovviamente misericordioso, egli provvede il cibo a coloro che lo temono, giudica opportune premettere l'azione di grazie con il dire ogni sua azione è gloriosa e magnifica. Questo sacramento è chiamato spesso anche sacrificio, e di ciò in seguito parleremo più a lungo. È chiamato pure comunione, vocabolo preso dal passo dell'Apostolo, il calice di benedizione con cui noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo, e il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo del Signore. Infatti, come spiega il damasceno, questo sacramento ci unisce a Cristo, ci fa partecipi della sua carne, della sua divinità, e in Lui ci concilia e congiunge, quasi cementandoci in un unico corpo. Ecco perché questo sacramento è detto anche sacramento di pace e di carità, per fare intendere quanto siano indegni del nome di cristiani, quelli che alimentano inimicizie, e come si debbano sterminare quale orribile peste, gli odi, i dissidi e le discordie, tanto più che nel sacrificio quotidiano professiamo di serbare soprattutto la pace e la carità. spesso è chiamato anche viatico dagli scrittori ecclesiastici, sia perché è il cibo spirituale che ci sostenta nel pellegrinaggio della vita, sia perché spiana alla via, scusate, spiana la via alla gloria e felicità eterna. Per questo è antica e fedele tradizione della Chiesa Cattolica che nessuno dei fedeli parta da questa vita senza questo sacramento. I padri più antichi seguendo l'Apostolo hanno tra loro chiamato l'Eucaristia anche cena perché fu istituita da Cristo durante il salutare mistero dell'ultima cena. Non per questo però si deve concluderne che sia permesso consacrare o ricevere l'Eucaristia dopo aver mangiato o bevuto, che anzi, secondo la testimonianza degli antichi scrittori, gli apostoli stessi hanno introdotto la salutare consuetudine che l'Eucaristia si è ricevuta soltanto da chi è digiuno. Ora qualche piccolo riassunto di questo. Allora, l'Eucaristia si chiama appunto Eucaristia nelle due accezioni possibili del vocambolo grazie eccellente perché l'Eucaristia è la grazia delle grazie per le continenze di Gesù e poi l'azione di grazie, il rendimento di grazie, tutti gli esempi che sono stati fatti. È chiamato anche spesso sacrificio, ne parlerà più a lungo o più avanti perché evidentemente il termine Eucaristia è strettamente connesso con il sacrificio della Santa Missa. Poi, comunione, questo lo sappiamo anche noi, quindi comunione con il corpo e con il sangue del Signore. Poi, sacramento di pace e di carità, questa è una cosa importantissima. Ecco perché prima della comunione c'è l'esortazione Signore Gesù Cristo che vi lascio la pace vi do la mia pace, no? Questo c'era in Anticus e in Nous la pace del Signore sia sempre con voi, cioè se non stai in pace con tutti e se non vivi nella carità non puoi fare la comunione. Poi il viatico, bellissimo, il viatico nella duplice sezione perché il viatico viene da via, no? Quindi è il cibo dei viatori, quindi i viatori, termine tecnico, siamo noi, cioè quelli che siamo ancora in cammino, ma è anche il cibo, il viatico, è anche il passaporto, quindi il lascia passare per la vita eterna e antiche fedele tradizioni della Chiesa Cattolica che nessuno dei fedeli parta da questa vita senza questo sacramento. Prassi attuale testimoniata da parroco da 20 anni non lo prende quasi nessuno. Eppure se si vuole essere fiscali come tante volte ho raccomandato e insegnato pubblicamente e come peraltro insegnato autorevolmente dalla Chiesa nei suoi cinque precetti generali quello che appunto riguarda comunicarsi e confessarsi almeno a Pasqua la comunione per i fedeli che oggi se ne pensi è obbligatoria solo in due circostanze a Pasqua secondo legge ecclesiastica e in punto di morte. Molta gente pensa che deve andare a messire se deve farsi per forza la Santa Comunione ma non è così. La Santa Comunione la fa e si sta in condizione di poter ricevere il Signore degnamente senza andare a regare oltraggi all'eucaristia perché obbligatoria la Santa Comunione questo dobbiamo sapere per la nostra formazione è solo per il sacerdote perché la Santa Comunione del sacerdote è ad validitatem perché è la consumazione del sacrificio eucaristico offerto sull'altare. Se non fa la Comunione nessuno la Messa è perfettamente celebrata valida e i frutti spirituali della partecipazione alla Santa Messa sono usufruiti da tutti quelli che ci hanno partecipato questo perché si sappia ovviamente è cosa non lodevole eccellente ma auspicabilissima e meravigliosa fare la Comunione quando si partecipa alla Santa Messa anche sempre se uno sta in condizioni di poterlo fare un conto è parlare di cosa eccellentissima auspicabilissima lodevolissima un conto è pensare che uno lo deve fare per forza a qualunque costo questa è un'altra questa è un'altra situazione perché c'è gente che pensa a queste cose qui che anche quando sa che non potrebbe farsi la Comunione comincia a dire la faccio lo stesso e poi mi confesso no 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 prima di confessi e poi fare la Comunione numero 209 l'Eucaristia è un vero sacramento spiegato il valore del nome si deve insegnare che l'Eucaristia è un vero sacramento uno di quei sette che la Santa Chiesa ha sempre devotamente riconosciuto e venerato tant'è vero che alla consagrazione del calice è detto mistero della fede inoltre pur promettendo le quasi infinite testimonianze di scrittori sacri che hanno sempre ritenuto doversi l'Eucaristia porre tra i veri sacramenti possiamo dimostrare l'assunto partendo dalle proprietà e dalla natura stessa di questo sacramento infatti esso consta di segni esterni e sensibili significa e produce la grazia ed è stato istituito da Cristo come gli evangelisti e l'apostolo hanno affermato in maniera indubbia ora essendo questi appunti requisiti che concorrono a confermare la verità di un sacramento è chiaro che non vi è bisogno di altri argomenti ma i parro si osserveranno con cura che in questo mistero molte sono le cose a cui gli scrittori ecclesiastici hanno dato il nome di sacramento talora infatti hanno chiamato sacramento la consagrazione l'atto della comunione spesso lo stesso corpo e sangue del Signore contenuto nell'Eucharistia dice infatti Sant'Agostino che questo sacramento risulta di due cose l'apparenza visibile degli elementi e la carne e il sangue invisibili di nostro Signore Gesù Cristo appunto in questo medesimo senso noi affermiamo che bisogna adorare questo sacramento intendendo cioè il corpo e il sangue del Signore ma è chiaro che tutte queste cose sono dette sacramenti solo e impropriamente tale nome invece in senso stretto spetta solo alle specie del pane e del vino in che cosa l'Eucharistia differisce dagli altri sacramenti sacramenti si rileva facilmente in che cosa l'Eucharistia differisca dagli altri sacramenti questi si compiono con l'uso della materia cioè durante il tempo in cui vengono amministrati così così il battesimo diviene sacramento proprio nell'istante in cui l'individuo viene lavato mentre per fare l'Eucharistia basta la consagrazione della materia che non cessa di essere sacramento rimanendo conservata nella vissile chiaro no? di più nel fare gli altri sacramenti non si verifica mutazione della rispettiva materia in un'altra sostanza l'acqua del battesimo infatti o l'olio della cresima non perdono la loro originaria natura di acqua e di olio è acqua benedetta è olio benedetto ma sempre acqua e olio rimangono mentre nell'Eucharistia quel che era pane e vino prima della consagrazione diviene dopo quella la sostanza vera del corpo e sangue del Signore capito? ma pur essendo due gli elementi che cioè il pane e il vino che servono a costituire il sacramento integrale dell'Eucharistia dobbiamo credere ammaestrati dall'autorità della Chiesa che essi formino un solo sacramento altrimenti non si potrebbe mantenere il numero settenario dei sacramenti come è stato sempre insegnato e confermato dai concili lateranense fiorentino e tridentino infatti se la grazia di questo sacramento fa dei fedeli un solo corpo mistico bisogna che esso sia uno in se stesso appunto perché armonizzi con l'effetto che produce ed è uno non perché costa di un solo elemento ma perché significa una sola cosa come infatti il mangiare e il bere che sono due cose diverse sono adoperati per ottenere un unico effetto cioè il ristoro delle forze del corpo così era conveniente che ad essi corrispondessero quei due elementi materiali del sacramento che significano il cibo spirituale che sostenta e ricrea l'anima perciò Cristo disse la mia carne è davvero cibo e il sangue mio è davvero a bevanda cioè spiego brevemente dopo aver appurato che il termine sacramento è in senso stretto perché sacramento vuol dire una materia una forma ed un effetto spirituale ben preciso ovviamente presente poi il ministro adeguato è chiaro che si parla di corpo e sangue del Signore di trasmutazione della sostanza dell'uno e dell'altro quindi sono due cose in realtà che come dire sarebbero sacramenti in senso stretto appunto il corpo e il sangue di Cristo però se uno li considerasse due sacramenti e i sacramenti diventerebbero otto ma in realtà sono un solo sacramento pur essendo due distinte materie che è un sacramenti fisiche del nostro corpo così come specificato da Gesù nel mangiato di San Giovanni la carne e il sangue sono vero cibo e vera bevanda cioè concorrono unitariamente alla vita dell'anima vedremo poi più avanti perché già si sente l'obiezione ma perché allora i fedeli comunicano soltanto al corpo e non anche al sangue vedremo la risposta che arriverà quando si parlerà di questi argomenti non anticipo perché altrimenti mettiamo troppa troppa carne al fuoco come si dice 211 triplice significato dell'eucaristia importa anche spiegare con cura che cosa significa il sacramento dell'eucaristia affinché i fedeli guardando con gli occhi del corpo i sacri misteri pascano l'animo con la contemplazione delle cose divine tre sono le cose significate da questo sacramento la prima è un avvenimento passato la passione del signore come gli stesso ci ha insegnato fate questo in memoria di me e l'apostolo attesta ogni volta che mangerete questo pane e berrete questo calice annunzierete la morte del signore fino a quando egli venga tecnicamente questa dottrina che si spiega qui triplice significato dell'eucaristia cioè passato presente e futuro come vedremo tecnicamente queste espressioni che sono tratte chiaramente dalla somma teologia di San Tommaso si chiamano signum commemorativum quindi un segno che commemora una realtà venuta nel passato in questo caso la passione e la morte del signore poi signum demonstrativum cioè un segno che al presente trasmette un qualcosa e lo trasmette e lo trasmette efficacemente è un signum prognosticum cioè un segno che preannunzia qualche cosa che accadrà in futuro il signum commemorativo l'abbiamo già visto la seconda riprendono lettura è una realtà presente cioè la grazia divina e celeste che questo sacramento ci dona per nutrire conservare le anime nostre come il battesimo ci genera nuova vita e la cresima ci fortifica perché possiamo respingere il demonio e confessare apertamente il nome di Cristo così l'eucharistia ci nutre e ci sostenta signum demonstrativo la terza è un preannunzio del futuro cioè il frutto dell'eterna gloria e felicità che riceveremo nella patria celeste secondo la promessa di Dio queste tre cose però riferentosi al passato al presente e al futuro sono espresse così bene dal mistero dell'eucharistia che tutto intero il sacramento pur costando di due specie diverse serve a indicare ciascuna di esse quei distinti significati di un'unica realtà stupendo perché? perché la passione di Gesù e la morte si è compiuta versando il sangue quindi Gesù ha versato il sangue ci ha colto il sangue il nutrimento e sostentamento è realizzato dal cibo e dalla bevanda spirituale il preannunzio della guerra futura prepara un banchetto di cibi succulenti pane di vini raffinati il vino consacrato materia dell'eucharistia il pane di grano 212 i parroci dovranno prima di tutto ben conoscere la materia di questo sacramento sia per effettuarlo debitamente sia per illustrare nel simbolismo fedeli onde accenderli allo studio e al desiderio della sua sacrosanta realtà la materia di questo sacramento dunque è duplice la prima di cui parliamo subito è il pane di grano dell'altra il vino di uva si dirà dopo nel paragrafo successivo gli evangelisti Matteo Marco e Luca narrano che Cristo prese in mano il pane lo benedisse e lo spezzò dicendo questo è il mio corpo in San Giovanni il redentore chiama a se stesso pane dicendo io sono il pane vivo disceso dal cielo vi sono varie specie di pane sia che differiscano nella materia pane di grano pane di orzo pane di legumi o altri prodotti della terra sia che differiscano nella qualità pane fermentato pane senza lievito le parole del salvatore mostrano che il pane deve essere di grano giacché nel linguaggio ordinario la parola pane indica senz'altro quello di grano ciò viene confermato anche da una figura del vecchio testamento dove il signore ordina che i panni di proposizione che prefiguravano l'eucaristia fossero fatti di fior di frumento levitico 24 5 ma come il solo pane di grano deve essere considerato materia dell'eucaristia conforme alla tradizione apostolica e all'insegnamento della chiesa così è facile convincersi da quello da questo stesso da quanto Gesù stesso fece che questo pane deve essere senza lievito egli infatti istituì questo sacramento nel primo giorno degli azimi quando non era lecito ai giudei tenere in casa nulla di fermentato ne vale opporre l'autorità di San Giovanni evangelista che afferma queste cose avvenute prima della festa di Pasqua la risposta è facile la festa degli azimi cominciava la sera della quinta feria e appunto in quella sera il salvatore celebrò la Pasqua ma mentre gli altri evangelisti chiamano questo il primo giorno degli azimi San Giovanni lo chiama antecedente alla Pasqua perché considera il giorno naturale che comincia con le varie del sole perciò anche San Giovanni Crisostomo chiama primo giorno degli azimi quello alla sera del quale si dovevano mangiare gli azimi inoltre la consacrazione del pane azimo conviene assai a quell'integrità e purezza di cuore che i fedeli devono regare a questo sacramento come insegna l'Apostolo purificatevi dal vecchio lievito onde siate una pasta nuova senza lievito come siete di fatto perché la nostra Pasqua che è Cristo è stata immolata ce l'aviamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità ma con gli azimi della purità e della verità c'è tutta questa tradizione spirituale che parla appunto del lievito in questo contesto come cosa negativa c'è anche quell'altro passo del Vangelo che dice guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia tuttavia tale qualità del pane non è così necessaria che senza di essere il sacramento non possa sussistere perché tanto l'azimo quanto il fermentato hanno ugualmente il nome e la natura vera del pane ma a nessuno è lecito con privata autorità o piuttosto temerità mutare il lodevole rito della chiesa molto meno i sacerdoti latini ai quali i sommi pontefici hanno ordinato di consacrare il pane asimo beati basti questo per la prima parte della materia eucaristica dobbiamo però notare che non è mai stata determinata una quantità precisa di pane da consacrare non potendosi fissare il numero di coloro che vogliono e possono partecipare ai sacri misteri allora cosa sta dicendo per la validità ci vuole pane di frumento ok per la liceità ci vuole pane asimo importante ecco cosa significa significa che in caso di necessità supponiamo che ne so persecuzione ok c'è un sacerdote che sta carcerato in mezzo a situazioni di emergenza c'è del pane che si accerti essere pane di frumento lo può tranquillamente consagrare perché consagra l'eucaristia ma fuori dei casi di questo genere un sacerdote guai a lui deve utilizzare il pane azimo che è la materia ordinaria spero che sia chiaro no però pane di frumento quindi anche che ne so una pagnottella che ci mangiamo a pranzo quindi che sia in caso di necessità è materia valida per l'eucaristia altro elemento il vino di uva 213 veniamo così all'altra materia o elemento dell'eucaristia si tratta del vino spremuto dal frutto della vite con l'aggiunta di un po' d'acqua la chiesa cattolica ha sempre ritenuto e insegnato che il nostro signore salvatore nell'istituire questo sacramento usò il vino avendo egli stesso detto non berrò d'ora in poi di questo frutto della vite fino a quel giorno si parla di frutto della vite dice a questo proposito il crisostomo che produce certamente vino non acqua quasi volendo confutare in antecedenza l'eresia di coloro che ritennero doversi in questo sacramento usare soltanto l'acqua la chiesa poi ha sempre mescolato l'acqua al vino primo perché ciò fu fatto da cristo stesso come si prova con l'autorità dei concili e la testimonianza di san cipriano secondo perché con questa mescolanza si rinnova la memoria del sangue e dell'acqua sgorgati dal suo costato aperto terzo perché le acque significano i popoli perciò l'acqua mescolata al vino significa la congiunzione del popolo fedele con cristo suo capo quest'uso del resto e di tradizione apostolica la chiesa l'ha sempre osservata così capiamo anche che cos'è quel gesto l'acqua con il dal vino si assegni della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana la formula che si usa nella nella messa indica proprio questa in una nuova messa indica questo terzo punto nella formula antica o signore che ti sia degnato di unire alla tua natura divina alla nostra sostanza umana degnati che attraverso l'unione di quest'acqua con il vino noi siamo degni di essere uniti evidentemente attraverso la comunione alla tua natura divina cosa che già si realizza però il mistero dell'offertorio però ci sono anche quegli altri due elementi in particolare il più importante la memoria del sangue e dell'acqua sborgata e del soccorso stato aperto sebbene i motivi della mescolanza siano tanto gravi che questa non si può omettere senza peccato mortale non si può omettere senza peccato mortale il sacramento può sempre sussistere anche senza di essa quindi non è ad valititatem anche questo vedete però che significa è ad licitatem se non lo fai fai peccato mortale quindi mi raccomando l'abbiamo già visto tante volte il sacramento valido lecito e fruttuoso questa è una distinzione fondamentale che bisogna imparare nella dottrina cattolica quindi se un sacerdote non mescola l'acqua al vino pecca mortalmente se lo fa volontariamente ma la messa è valida il vino diventa sangue di Cristo avvertano poi i sacerdoti che devono si infondere l'acqua nel vino ma poca poiché il giudizio degli scrittori ecclesiastici essa deve convertirsi in vino cioè quella piccola quantità di acqua deve essere assimilata dal vino cioè non deve essere una cosa anacquata scrisse Papa Onorio nel tuo paese si è introdotto il pernicioso abuso di usare più acqua che vino nel sacrificio mentre secondo la ragionevole consuetudine della Chiesa Universale si deve adoperare molto più vino che acqua soltanto due dunque sono gli elementi di questo sacramento e a buon diritto la Chiesa ha proibito con molti decreti di offrire altra cosa che il pane e il vino come alcuni avevano la temerità di fare abbiamo ancora un pochino di tempo facciamo l'ultimo paragrafo che riguarda sempre la materia perché poi dal 215 comincia a riguardare la forma e quindi lo vedremo la prossima volta però chiudiamo con questo perché è un paragrafo intitolato convenienza della materia eucaristica dove appunto si spiega perché proprio questi due elementi fossero sommamente convenienti a questo sacramento numero 214 bisogna ora vedere come i due segni del pane e del vino siano atti ad esprimere quelle realtà che la fede ci presenta come sacramenti anzitutto essi significano Cristo la vera vita degli uomini avendogli stesso detto la mia carne è davvero cibo e il mio sangue è davvero bevanda se dunque il corpo di nostro Signore Gesù Cristo dà realtà nutrimento di vita eterna a chi con purezza e santità lo riceve giustamente l'eucaristia per materia con gli elementi che servono a sostenere la vita terrena così i fedeli potranno agevolmente intendere che grazie alla comunione del corpo del sangue di Cristo l'anima loro potrà essere satollata secondo questi elementi servono anche a convincere gli uomini che nell'eucaristia c'è realmente il corpo del sangue del Signore già che vedendo noi ogni giorno per virtù della natura il pane e il vino trasformarsi in carne e sangue umano più facilmente siamo condotti a credere che la sostanza del pane e del vino si converta nella vera carne e nel vero sangue di Cristo in virtù della re celeste consagrazione allora bello questo qui noi mangiamo tutti i giorni beviamo il pane che mangiamo e il vino che beviamo si trasformano nella nostra carne e nel nostro sangue umano ok ecco analogamente la sostanza del pane e del vino per la consagrazione si converte nella carne e nel sangue di Cristo ce l'abbiamo pensato questa è un'immagine che può aiutare carina terzo questa mirabile mutazione di elementi aiuta a raffigurarci quello che avviene nell'anima come la sostanza del pane e del vino si cambia realmente nel corpo e nel sangue di Cristo sebbene non vi sia alcuna visibile trasmutazione esterna così noi ricevendo nell'Eucharistia la vera vita interiormente sorgiamo a nuova vita pur non apparendo in noi mutamento al cuore perché le operazioni divine adesso dirò qualcosa su questo si compie in questo modo sembra che non è successo niente non ci sono clamori non ci sono sceneggiate non ci sono spettacoli ma in realtà è successo tutto quarto come l'unione di molti membri costituisce l'unico corpo della chiesa così questa è un'immagine che si prende da Sant'Agostino nulla meglio degli elementi del pane e del vino può farlo di splendere come infatti il pane risulta da molti grani di frumento e il vino si spreme da molti grappoli d'uva così neppure essendo molti per virtù di questo divino mistero veniamo strettamente collegati quasi cementati in un solo corpo faccio una piccola glossa di sottolineatura a quanto appena detto cioè la trasformazione interiore invisibile così come provate a vedere provate a pensare porti al salvatore dell'acqua voglio che mi benedici l'acqua l'acqua della benedetta sesso niente no da un punto di vista di manifestazioni percepibili sesso niente no niente assolutamente niente giusto battesimo 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 il bambino successo niente no visibilmente non è successo tutto continuiamo cresima matrimonio successo niente successo tutto ecco questo però sia un monito e una perché oggi c'è questo vizio diciamo così questa tentazione di andare in cerca delle cose straordinarie appariscenti sensazionali miracolistiche emotive carismatiche questo non c'è niente di cattolico Gesù dice nel Vangelo il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione nessuno dirà eccolo qui e eccolo là perché il regno di Dio è dentro di voi quindi proprio l'economia sacramentale su cui si fonda la vita di grazia e la vita della chiesa è la conferma di queste parole non dobbiamo non andare appresso alla fede alla ricerca di emozioni o di sensazioni o di esperienze di chissà quale cosa che non so sentito che ho visto e c'era quello ho visto il segno ho visto quella cosa è successo quello trasuda quell'altro c'è la cosa non occorrono queste cose sola fides sufficiente dice San Tommaso Daquino e basta questa sia una raccomandazione credo importante e credo anche attuale con oggi possiamo certamente mettere punto non appesantire troppo queste che sono evidentemente catechesi di natura dottrinale e formativa le dico sempre magari saranno noiose forse spero troppo noiose no però sicuramente non solleticano molto la gola spirituale perché qui c'è roba solida però ho sempre detto che queste sono le cose che sarebbero più importanti non sono tanti importanti i reel che sono un po' sì quelli sono come dire spezzoni di frasi a effetto composte da bravissimi collaboratori che ringrazio ma le cose importanti ma non tanto perché le dico io quanto perché le riferisco e che fanno bene anche a me le conosco queste cose però risentirle mi fanno sempre bene e credo che possano fare bene a molti quindi magari se non soltanto le cose che cioè qualunque tipo di buona formazione dottrinale oggi è quanto mai importante e urgente quindi fate in modo se è possibile di sensibilizzare condividere fare qualcosa sotto questo punto di vista perché è molto più importante di quanto si pensi e parere mio personale oggi più che mai laudentur jesus et maria che è